Si lascia deperire un bene pubblico, poi dopo che le ho lasciato deperire, dicevo, no no, è calente, ma lo abbattiamo, potremmo fare tanti altri esempi, evitiamo. E ci facciamo un parcheggio, come lo vogliono fare quegli sciagurati che hanno pensato di fare un parcheggio in quello spazio verde che c'è accanto all'archivio di Stato, dove io vado sempre, che è l'ex carcere Sant'Agostino. Ripensateci sciagurati, sciagurati, non fateci un parcheggio là, vi maledirò a vita se ci fate un parcheggio là. Quello deve essere uno spazio pubblico, libero, per eventi estivi, teatrali, belle serate d'estate, lo chiamiamo il giardino di Epicuro e là ci facciamo mostre, letture, incontri, concerti, uno spazio pubblico estivo nel cuore della città, non che ci mettiamo le macchine. E già abbiamo tanti parcheggi, abbiamo rovinato Piazza Dante, abbiamo rovinato tante altre cose. Allora, chiudo la parentesi, scuso per l'invecchio. Ha fatto benissimo la sua opinione, anzi la faremo ascoltare magari al primo cittadino. Eh no, ripensateci, veramente li maledico. Questa è una proposta anche. Mi incatenerò a quel luogo per evitare che ci facciano un parcheggio. Ma siete matti? Mettete un parcheggio ancora dentro il cuore di terra. Mandate via. Chi l'ha pensato dovrebbe essere espulso dalla città. Propongo l'espulsione dalla città di chi ha pensato questa scelleratezza.